La fine del mondo mi è arrivata, cosa faresti per riportarmi indietro? Shepard ha creato la guerra, ma solo noi sapevamo la verità. Il rifugio è più avanti. Muoviti! Ritirata! Ritirata! Continua a premere sulla ferita. Ci provo! Tieni tu, ruo amico. Mi serve aiuto, ora! Stiamo perdendo. Carica! 3, 2, 1, libera! Rapporto su New York? Hanno neutralizzato il nostro supporto aereo. Se continuano così, è una battaglia persa. Non possiamo perdere New York. Possiamo richiedere qualche unità delle forze speciali in zona? RPG! Frost! Frost! Svegliati! Dobbiamo muoverci, ora! Vi sono, è una battaglia per diffasione! Oh no! Allora! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Il furbatore è 500 metri a nord, da qui andiamo a piedi, muoversi! Occhi aperti, ha il tiro d'arrivo! Viva la strada, destra, destra! Allora qual è il piano? Come prima, distruggiamo il disturbatore e uccidiamo il catturale. Sulle scale, con me! Restate qui fino al mio segnale, Frost, con me! Muoviamoci! Buongiorno! Iniziamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su, muoviamoci! Di qua dovremo arrivare a Wall Street. Il disturbatore è vicino. Occhio a porte e finestre e controllate tutte le ombre. Rack, ricevi qualche segnale? Solo interferenze. Il disturbatore ci sta tagliando fuori. Fermi e silenzio. Uomini nel negozio qui sotto. Mi faccio fuori. Ricevuto. Contatto a riparo. No, salazzo delle granate. No, salazzo delle granate. Fermi e silenzio. Uomini nel negozio qui sotto. Mi faccio fuori. Grinch, metti di riguardia mentre ripuriamo il negozio. Contatto a riparo. No, salazzo delle granate. No, salazzo delle granate. Spesso delle granate. Rarita. No, salazzo delle granate. Fuori. Grazie.